Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati e su RPG Maker. Oggi parleremo di un argomento che avevo già accennato minimamente nel video precedente, cioè di uno zombie o di un mostro che cercherà di seguirvi e in caso in cui vi toccasse ci inizierebbe il combattimento. Quindi diciamo una variante del solito combattimento dove o tu clicchi sul nemico o lo trovi nell'erba alto, o comunque casualmente nella mappa. Per farlo ora vi faccio vedere intanto l'esempio, qui siamo nella mappa di Zeb89, vediamo, eccoci qui, vedete tutti gli zombie ci stanno piano piano seguendo, ovviamente vanno abbastanza lenti perché sono zombie, ovviamente siamo incastrati qua, non possiamo più uscirne e quindi per forza di cose affronteremo lo zombie. che ora vado a uccidere, usiamo il fuoco che so che gli fa davvero male. Ok, ed è morto. E ora non c'è più, vedete? Proviamo anche con questo, vi faccio anche vedere come ho fatto a farlo scomparire. Uccidiamo pure questo, è morto in questo dottore, perfetto. Vedete? E' esploso qui, o comunque quel che è, è sparito. C'è un'altra pozza di sangue, ora siamo incastrati. E rimarranno per sempre queste pozze di sangue. Non se ne andranno se voi cambiate mappa. Per farlo, intanto uccidiamo pure questo zombie qua, sto giovine zombie, muori, perfetto. Ok. Per far questo non ci vuole, chissà che, non ci vuole nessuno script, ci vuole solo dei passaggi molto semplici che ora vi farò vedere. Allora, creiamo un altro zombie, anzi, creiamo un'altra mappa. Creiamo una mappa, andiamo qua, non so, nuova mappa. Che cazzo, ne so, mondo exterior, uguale, non è che. Il problema è creare una mappa, così molto banale. Ok. E qua metteremo, intanto posizioniamo il nostro personaggio qua, impostazione iniziale giocatore qua, per farlo comparire appunto in questa mappa quando iniziamo una nuova partita. Impostiamo un personaggio, quindi lo zombie, come l'ho chiamato? Zombie, zombie, sì. Qualsiasi zombie, lo prendiamo. E cosa facciamo qua? Andiamo qui su movimento autonomo, verso eroe. E questa velocità, con cui vogliamo chi si avvicini. Essendo uno zombie, secondo me, la velocità di default va benissimo. Ma potete, scusate, potete anche aumentarla, non so, fare... Come se fosse una persona normale, solitamente dovrebbe essere normale e velocissima. Sembra strano e velocissima, ma camminerà in modo più naturale. Ora andiamo a provarlo. E ovviamente in questo modo il nemico si avvicinerà soltanto a voi, non succederà niente. Per far sì che inizi il combattimento dovete fare qua. Intanto cambiare qua inizio, con tasto azione, dovete cambiare tasto azione, dovete mettere contatto con l'eroe. E' molto importante, se no non funzionerà mai. Funzionerà solo se, appunto, non lo toccate, ma se voi li cliccate sopra. Quindi con contatto con l'eroe, appunto, quando lo zombie si avvicinarà e vi toccherà, inizierà qualcosa. Che sarà il combattimento. Noi andiamo qui su contenuti, inizia battaglia, e vabbè è uguale, mettiamo bimbo minchia, un cambiamento, comunque una truppa che voi avete già creato, e facciamo bimbo minchia. Ok. E così, teoricamente, proviamo. Se noi proviamo, non continua. Nuovo game. Ecco, vedete quanto è veloce? Aiuto! È velocissimo! Vi seguirà sempre nella mappa, non vi perderà mai d'occhio. In qualsiasi punto della mappa voi siate, eh. Dietro un muro, non cambia niente. Per lui, vi vede sempre. Ok. E vedete, mi ha toccato e il combattimento inizia. Molto semplice. Se lo uccidiamo... Che cosa succede? Una minchia! Continua ad attaccarci all'infinito, non finirà mai. Non è quello che vogliamo noi, ovviamente. Noi vogliamo che esploda, o succeda qualcosa, comunque. Per far sì, bisogna andare su zombie, ovviamente. Fare, andare qua, sotto inizio battaglia, e mettere un, come cacchio si chiama, un animazione. Ecco qua, mostra animazione. Nella pagina 2, sotto personaggio, mostra animazione. Non eroe, evento, non eroe, ma questo evento, importante. E facciamo, non so, qua sono tutte le animazioni che avete voi, cioè, sono le stesse che ho io. Ovviamente, andiamo giù, sono tutte quelle che ho inserito io in più di tutti gli youtubers. Ma, questo è un discorso diverso. Voi avete fino a, che ne so, fino a 100 le avete anche voi, fino a 110. Non so, non mi ricordo cosa avevo messo io, potete benissimo cambiarla, se preferite. Mettiamo colpo fisico 2. Non lo so, proviamolo. Questa animazione, che ovviamente, quando morirà, ci sarà questa animazione. Ma non basta, perché rimarrà lì. Dobbiamo farlo sparire dopo questa animazione. Quindi, andiamo sempre sotto contenuti, qua sotto mostra animazione, controllo switch locali, A, nuova pagina evento, qua sotto switch locali A è on, quindi quando si attiverà, si, attivi, attiverà, non si attiverà, switch locale on, andrà su questa pagina dove la grafica è vuota, quindi non ci sarà più il personaggio. Ma noi vogliamo che ci sia anche un po' di sangue. Ovviamente io ho molti diversi tileset, comunque molti diversi oggetti, quindi ho la pozza di sangue, se voi non ce l'avete, o la scaricate, la trovate in giro sicuramente, o se no mettete qualcos'altro, non lo so. Questi sono quelli di default, questi qua, ad esempio. Ma, non... Tipo questo, potete mettere questo schifo di fuoco, non lo so, potete mettere qualsiasi cosa, kiwi garbi, una bottiglia di vino, non lo so. L'importante, ecco qua, io ho questo tileset e ho il sangue qui, quindi metto il sangue, nel mio caso, ma potete mettere qualsiasi cosa, qualsiasi grafica. E' importante lasciarla così default, che non vi segua, se no vi seguirà una poza di sangue, mi sembra molto strano. Ok, quindi ora possiamo provare e dovrebbe funzionare. Ora mi seguirà, bla bla bla, ok, mi ha eseguito. Appare bimbo minchia. Combatti. Tecciac, ti attacco, lo scendiamolo. E' morto. Ok, vedete? C'è stata l'animazione, subito dopo c'è stato il cambio di pagina, quindi il cambio di personaggio dallo zombie, intanto questa poza di sangue. Quindi questo è molto semplice da fare, ci si mette 5 minuti, avete visto, non di più. Se invece volete qualcosa un po' più, diciamo, un po' meno così banalotto, che comunque va benissimo, questo è molto realistico come cosa. Volete qualcosa di più, un po' più complicato, diciamo, ecco, come posso dire. Vi posso far vedere un esempio che probabilmente vi farò vedere nel prossimo video. Dov'è un esempio, ne ho molti esempi, ma non ne trovo. So che in YouTube area, a livello 1, c'è qualcuno che ce l'ha. Era Chrysler, sì. Sì, esatto. Qua nel Jurassic Park. Il gioco sto sviluppando, eh, ragazzi, non preoccupatevi. Spero che a ottobre riesca a farlo uscire, però spero che sono molto impegnato e... Insomma, sono una parte abbastanza complicata del gioco. Quindi mi scazzo un po' a volte. Comunque, eccolo qui, il Lost Piosauro. Che ci seguirà soltanto quando ci vedrà effettivamente, dopo una certa distanza. Non ci seguirà sempre, come lo zombie, ma in questo caso, vedete. Ci seguirà fino a un certo punto, fino a una certa distanza. Dopo quella distanza non ci può più seguire. E cambia. Questa cosa. Ovviamente, nel discorso, è sempre lo stesso. Questo non c'entra niente, era nell'erba alta. Eccolo qua. Ci ha beccati. Uccidiamo in un colpo, ovviamente. E sparisce. Come ho fatto a vedere nel video precedente. Qua ci vuole un po' più di... Furpizia che vi mostrerò nel prossimo video. Serverà anche uno script molto semplice, non dovrete neanche modificarlo. Comunque ne parlerò meglio in un prossimo video. Grazie a tutti, ci vediamo in un prossimo episodio o un prossimo video sui pavoli ingrifati. Se avete domande, scrivetemi pure. Ciao a tutti.